Si vede che loro avevano un bel gioco da doppio, forse hanno pagato un po' all'inizio della partita e noi abbiamo giocato in maniera perfetta, molto meglio di ieri anche, siamo soddisfatti di questo incontro. Sì, quella sarà la più importante perché se dovessimo vincere quella partita passeremo per prima e quindi avremo più possibilità nella fase di eliminazione diretta di andare più avanti nel torneo. Per ora prosegue bene, vediamo, non so se siamo qualificati già matematicamente, speriamo bene, speriamo comunque di beccare poi una coppia non troppo forte alle ottave, vediamo. Sì, la prossima partita è davvero importante, però se giochiamo come abbiamo giocato oggi non ci sono problemi perché oggi abbiamo giocato bene, quindi siamo in fiducia e sotto a chi tocca. Sì, è vero, abbiamo rischiato, ci siamo un po' rilassati, però dai, alla fine è importante vincere, no? No, dai, vediamo la prossima perché comunque noi è la prima volta che giochiamo insieme, quindi va bene così, dai. L'ha fatta apposta per mettere alla prova il mio coraggio, la mia tenuta del cuore. Andiamo a sudare un po' di fiducia. Sì, ma voleva sapere perché 6-2, 6-1, gli pareva brutto, ha detto, ma li faccio morire. Sì, l'ha sconfitta ieri colpa mia perché sono a Reduce da una finale che non ho ancora digerito all'altro torneo, però sono qui con il mio bro che è l'artefice del mio miracolo perché è solo grazie a lui gioco ancora a tennis, quindi io gli devo tutto e ieri, oggi devo farmi perdonare per ieri, quindi bene così, è andata bene così. La prossima partita è importantissima per passare, ovviamente, poi si spera nel sorteggio, comunque sono d'accordo con quello che ha detto il mio compagno perché dipende tutto da lui, nella coppia lui è il doppista e lui è quello che fa la differenza come oggi. Sì, oggi è un po' più, per me sto dicendo, partita un po' più ostica, non riuscivo a entrare in partita, quindi ho fatto guidare lui e non si sbaglia a farlo guidare, bravo, molto bravo. E come ho detto anche la scorsa partita, ha un ottimo gioco di rete, quindi mi fido molto e credo che supereremo, cioè, arriveremo prima nel girone e arriveremo nel tabellone principale. Si spera. Si spera perché Marturano e Pastore sono veramente una coppia tosta e quindi adesso dobbiamo giocare contro di loro e sarà dura. Certo, siamo migliorati rispetto a ieri, anche perché peggio non si poteva. Domani devo avere molta pazienza, sono due giocatori abbastanza ostici e speriamo di giocare al meglio. Volevo ringraziare Riccardo che mi ha portato la vittoria oggi, mi ha fatto un bel regalo di compleanno. Sì, sì, abbastanza bene. È stato un primo set durissimo, comunque loro giocano bene, sono una bella coppia. L'abbiamo spuntata al tiebreak, secondo set siamo saliti noi e loro calati un po' bene. Visto l'orario non era facile giocare, è finito tardissimo, però bene, molto contento. Sì, domani è l'ultima partita. Sicuramente giocheremo un po' più, diciamo, sereni, però senza, ovviamente, distrarci troppo, comordente e che diciamo di buona.